Grande preoccupazione tra le organizzazioni sindacali per la situazione in cui si trovano gli ex dipendenti del CSA, il Consorzio Stabile Ambiente dell'Aquila, che ha gestito per quasi due anni l'impianto tecnologico di Grasciano del CIRSU. Una storia complessa, quella del CIRSU, culminata dapprima con il fallimento del suo braccio operativo, la Sogesa, nel giugno del 2012 e di conseguenza con il fallimento del Consorzio stesso, con sentenza a settembre del 2015. Successivamente l'impianto attraverso una gara di evidenza pubblica è stato affidato al CSA, quando anche in questo caso attraverso una gara di evidenza pubblica è stato ceduto alla società DECO S.P.A. Sono ben 29 le persone che rischiano di rimanere senza alcun sostegno e a denunciare la situazione sono tornati nuovamente i sindacati. Sono ex dipendenti del CSA che gestivano l'impianto del CIRSU. A molti lavoratori è già scaduto la NASPI, l'indennità di disoccupazione, ad altri nelle prossime settimane, nelle prossimi mesi scadranno e non avranno più ammortizzatori sociali. Noi è da mesi che poniamo questo problema ai livelli istituzionali, ma da parte della politica sia provinciale che regionale non c'è stata nessuna risposta. Quanti sono i lavoratori interessati? I lavoratori interessati al licenziamento sono in tutto 29 e sono tutti lavoratori che hanno 40-50 anni, per cui è anche difficile ritrovare una collocazione. Dal momento in cui quella è una struttura che comunque serve alla nostra provincia per quanto riguarda i rifiuti, io credo che la politica sia a livello provinciale che a livello regionale dovrebbe farci sapere e far sapere soprattutto ai cittadini terramani che cosa ci si vuole fare. Noi chiediamo tempi celeri affinché quella struttura eventualmente venga riaperta e i lavoratori vengono riassorbiti a chi quella struttura poi dirigerà.